Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento. Sono stati riconosciuti ai partecipanti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino. Tecnova è un'azienda che si occupa di distribuzione e commercializzazione di prodotti ad alta tecnologia per l'edilizia. Importiamo dall'estero delle tecnologie non presenti in Italia e le distribuiamo in ambito nazionale. Oggi presenteremo nuovamente Thermoship, che è un sistema molto intelligente, visto che si parla di città intelligenti, per ridurre gli spessori nell'isolamento termico. Questo vuol dire maggiore convenienza da un punto di vista economico, ma anche in futuro evita problemi nello smaltimento dei prodotti che si generano durante le lavorazioni. Immaginiamo un cappotto da 15 cm da smaltire tra 30 anni e portarlo a discarica. Il nostro non ha assolutamente spessori, è ceramica, 0,3 mm, quindi veramente un ottimo prodotto che consente appunto di arrivare a un risparmio energetico senza aumentare assolutamente gli spessori. Sono un'azienda che punta molto sulla comunicazione e sui convegni, perché il nostro prodotto è molto tecnico, ci rivolgiamo ai progettisti, quindi è molto importante comunicare al progettista i vantaggi che si hanno con la nostra tecnologia. Con Action Group, appunto con Infoprogetto, che organizza questi eventi, ci siamo trovati molto bene, anche oggi ho visto una buona presenza di persone.